allora buongiorno a tutti benvenuti alla lezione di oggi di programmazione ad oggetti l'obiettivo è quello di vedere assieme come possiamo in pratica andare a scrivere dei test in java utilizzando il framework JUnit e farlo all'interno di Eclipse che è l'ambiente che noi stiamo utilizzando vi ricordo che Eclipse è uno dei tanti ambienti di sviluppo che noi possiamo utilizzare ed è quello che abbiamo adottato per questo corso per vari motivi un po' per motivi storici un po' perché essendo open source è disponibile a tutti senza particolari problemi quindi quello che vorrei fare con voi a questo punto è vedere in Eclipse come possiamo scrivere i test come possiamo eseguirli e soprattutto come possiamo interpretarli a questo punto passo a Eclipse e vado a recuperare un esercizio vecchio che avevamo fatto qualche settimana fa relativo alla rubrica telefonica. Se ricordate i requisiti erano abbastanza semplici erano quelli di andare a identificare un contatto tramite il nome, cognome e numero di telefono e poi andare ad aggiungere e andare a rileggere i nomi. A questo punto cosa dobbiamo fare per andare a scrivere un test che verifichi il corretto funzionamento di questa applicazione? Allora, innanzitutto dobbiamo mettere in piedi quello che è l'ambiente di test L'ambiente di test in Java si basa su un framework che è JUnit JUnit non è parte dello standard Java, cioè non è parte di quello che noi vediamo quando andiamo ad installare Java ma bensì è una libreria esterna. Se voi collegate a junit.org trovate tutte le informazioni Quindi quello che dobbiamo fare è andare sul nostro progetto, andare a fare un clic destro e andare a scegliere Build Path e poi Add Libraries Questa è l'operazione che permette di aggiungere delle librerie esterne Quindi quando io faccio Add Libraries mi ritrovo un elenco di varie librerie Quella che a me interessa è JUnit Vedete che c'è, oltre alla libreria standard Java che è automaticamente già importata ci sono anche le librerie per andare a scrivere applicazioni mobili e altre cose Quindi noi scegliamo JUnit, Next, vedete che abbiamo la possibilità di scegliere diversi versioni di JUnit Come vi dicevo nell'ultima lezione, noi in questo corso adottiamo JUnit 4 Probabilmente a breve, l'anno prossimo probabilmente andremo a utilizzare la versione nuova JUnit 5 Ma per il momento utilizziamo JUnit 4 Vi ricordo che a parte diverse sintassi e qualche annotazione diversa JUnit 4 è molto simile a JUnit 5 E in termini di concetti, perché poi la sintassi invece è un po' differente È anche abbastanza simile a JUnit 3 Quindi voi trovate sul materiale che vi metto a disposizione La descrizione delle sintassi di JUnit 3, 4 e 5 Per il momento noi facciamo riferimento alla 4 Però sicuramente se vi capiterà di andare a lavorare in giro o vedere codice scritto da altri Troverete test molto probabilmente scritti in JUnit 3 Che è stato per sostanzialmente almeno 10 anni lo standard ufficiale Quindi scegliamo JUnit 4 e andiamo a fare Finish Come vedete all'interno della nostra finestra è comparso una nuova libreria Che è JUnit 4 A questo punto siamo a posto, siamo pronti perché ci sono le librerie E quindi possiamo andare a scrivere dei test Normalmente i test vengono tenuti separati dal codice Che si chiama di solito di produzione Quindi il codice di produzione è quello che voi date al vostro cliente E che il cliente metterà in produzione Mentre invece il codice di test è quello che voi utilizzate Per andare a verificare la correttezza del vostro codice Quindi come vedete qui c'è una cartella src che consente di andare a mettere tutto il codice Quello che facciamo è andare a creare una nuova source folder Ovvero una nuova cartella in cui andare a mettere invece i sorgenti relativi ai test Quindi source folder che andiamo a chiamare con molta fantasia test E dentro questa cartella andremo a creare un package Che possiamo chiamare ad esempio phonebook.test E qui dentro andiamo a creare le classi di test Quello che facciamo è con un click test O andare a fare la solita operazione di new A questo punto tra le varie opzioni che andiamo a scegliere È quello di andare a creare un JUnit test case Quindi creiamo un JUnit test case che possiamo chiamare test phonebook Ed ecco il codice ovviamente molto semplice e ridotto di quello che è un test Cosa possiamo notare? In JUnit 4 tutti i test sono sostanzialmente dei metodi di una classe La classe non ha nessun vincolo particolare I metodi di test sostanzialmente sono tutti prefissati da questo chiocciola test Allora domanda in chat come aggiungere la libreria Allora velocemente clic testo sul progetto Build Path e Add Libraries E poi scegliere JUnit e in particolare la versione 4 A questo punto tutti i metodi di test hanno questo prefisso Questa è un'annotazione Abbiamo già visto un'altra annotazione che è quella relativa all'override E quindi abbiamo già visto un esempio Più avanti vi andrò a descrivere velocemente come è possibile scrivere le annotazioni e utilizzarle Per il momento prendiamole come degli elementi di sintassi aggiuntivi Domanda se Build Path non ha Add Libraries Significa che probabilmente il progetto non è un progetto Java Se andate a vedere qui in alto Adesso tolgo l'evidenziazione In alto questa descrizione del progetto è una cartella con una piccola J Se non c'è il Build Path una probabile causa è che il progetto non sia un progetto Java Oppure che la visualizzazione non sia questa di visualizzazione dei package Torno alla descrizione del nostro test Che cosa fa il nostro test? Semplicemente va a esercitare le classi che vogliamo andare a verificare In modo da controllare che la risposta che ci danno O meglio, che ci danno i metodi di quelle classi Sia quella che ci attendiamo A questo punto il nostro obiettivo era quello di andare a verificare il funzionamento di PhoneBook Quindi che cosa facciamo? Andremo a creare un oggetto PhoneBook Scriviamo in italiano Uguale a new PhoneBook E qui andiamo a dare un nome Vedete che PhoneBook non è presente Allora l'ho scritto, tra l'altro l'ho scritto male Eclipse ci dice tra i suggerimenti di modificarlo in PhoneBook Dal package PhoneBook Quindi se andiamo a scegliere questa opzione Automaticamente Vediamo qua su Eclipse ci aggiunge l'import E va a rendermi visibile questa classe Vi faccio notare che Pur essendo in un package che si chiama PhoneBook.test Quindi se volete un qualcosa che potremmo interpretare come un sottopackage di PhoneBook La classe PhoneBook non la vediamo perché i package sono completamente distinti Quindi noi li vediamo come se fossero dei sottopackage ed è una nostra interpretazione Ma da un punto di vista di visibilità e di contesto Java I due package PhoneBook e PhoneBook.test sono assolutamente indipendenti Quindi non hanno nessun link o nessuna visione prioritaria Quindi abbiamo creato la nostra rubrica Quello che possiamo andare a fare è andare a recuperare una stringa Rubrica punto No, non mi ricordo più i requisiti GetName Scusate, string Titolo uguale rubrica punto getName E una volta che ho il titolo posso andare a verificare se effettivamente il titolo è quello che mi attendevo Cioè quello che ho specificato prima E questo lo posso fare con un metodo predefinito in JUnit che si chiama assertEquals AssertEquals è un metodo che normalmente ha due parametri Il primo è quello che mi dice che valore mi aspetto e quindi in questo caso andrò a mettere titolo Il secondo è, lo scrivo qui sotto, è il valore che effettivamente vado ad ottenere Quindi il titolo, la variabile Per cui questo è il valore atteso E invece qui sotto abbiamo il valore effettivo Ecco, questo è il nostro test minimale Un test minimale ha una fase 1 Creiamo Usiamo un impersonale Si creano oggetti e si eseguono operazioni Nel nostro caso abbiamo semplicemente creato un oggetto Fase 2 Si creano Scusate, si Ottengono dei risultati E Fase 3 Si Verifica la corrispondenza dei risultati Con le aspettative Allora, domanda Il package test è stato creato automaticamente? No, il test è stato creato esplicitamente con New Source Folder E poi all'interno ho creato un package che ho chiamato Phonebook.test Quindi sono io che ho esplicitamente creato La cartella di test e il relativo package Non c'è una convenzione forte relativamente ai nomi dei package Però normalmente è pratica comune avere una cartella di sorgenti che si chiama SRC Che contiene il codice di produzione E una cartella test che invece contiene il codice di test Qui ho utilizzato come nome del package phonebook.test Perché mi sembrava ragionevole e facile da capire Che questi sono i test che fanno riferimento alle classi che stanno nel package phonebook Anche questa è una convenzione ancora meno forte Di solito si mettono in un package che abbia un nome correlato In modo che vedendo il package phonebook Io sappia che o possa facilmente intuire che i test stanno nel phonebook.test Per cui a questo punto quello che vediamo qui è la struttura tipica di un test Facciamo un setup Andiamo a fare delle operazioni E poi facciamo la verifica Quindi la fase 1 che possiamo chiamare setup La fase 2 risultati E la fase 3 verifica Quindi questo ci permette di fare un test E che se ci pensate In pratica è quello che noi spesso andiamo a fare Quando abbiamo la necessità di andare a controllare Se un programma si comporta correttamente E scriviamo un metodo main Nel metodo main cosa facciamo? Crediamo degli oggetti Andiamo a recuperare dei risultati E li stampiamo Ecco, la differenza è che qui non stampiamo nulla Ma andiamo a verificare che il risultato sia corretto Di solito nel main noi stampiamo Per poi andare a leggere E a verificare a mano In maniera umana La correttezza dell'output Qui l'output lo passiamo al metodo assert equals O a un altro metodo analogo Che effettivamente ci consenta Di controllare in maniera automatica La correttezza Il vantaggio di avere dei test Rispetto ad avere un metodo main È che la verifica qui viene fatta in maniera automatica Quindi Uno è molto più veloce Due È oggettiva Nel senso che Se noi andiamo a vedere Con i nostri occhi Un output È possibile che ci sfuga qualcosa O che leggiamo male qualcosa Mentre invece Nel caso dei test in JUnit La verifica è sempre quella fissa A questo punto Una volta che io ho il mio test Cosa posso fare? Posso andare a fare Un Run as JUnit test Questo prende il test E lo esegue Ok Non ho salvato il test Vi chiedo di salvarlo E ottengo Un risultato Vedete che qui Sulla sinistra Ho l'esito Di quelli che sono I miei test Che cosa ha fatto JUnit Nell'andare a eseguire i test Sostanzialmente Ha preso La classe Che abbiamo cercato di eseguire Come test E ci ha Eseguito Quindi in maniera automatica Tutti i metodi Che avevano Il prefisso Et test In questo caso Ce n'era solo uno Quindi decisamente semplice Ma questo è il meccanismo generale Quindi se io ho più metodi Chioccio la test Automaticamente Questi mi vengono eseguiti Andiamo a vedere Un po' meglio Come è fatto L'output Che ci viene dato Da Eclipse Allora Prima parte C'è un RANS Allora Vediamo un attimo Se trovo La lente di ingrandimento No Mi dispiace Allora Qui abbiamo detto Che Abbiamo RANS Uno di uno C'è un unico test E quindi Dell'unico test Da eseguire L'abbiamo eseguito Questo numero qui Noi lo vediamo Ora fisso Ma se immaginate Di avere un migliaio di test È possibile vedere Che c'è una progressione Di questi numeri È anche possibile Che non tutti i test Possano essere eseguiti Per vari problemi Dopodiché abbiamo Il numero di errori E il numero di fallimenti Domanda Come mai non dice RANS Java App Allora Non mi dice RANS Java App Perché Dentro questa classe Non ho messo Un metodo main Se ci fosse stato Un metodo main Avrei potuto Eseguire Questa classe Sia come Test Che come Applicazione normale Però In un test Di solito Non si mette Alcun metodo main Perché viene eseguito Direttamente Da JUnit E quindi Ho questo Risultato Che vediamo qua A questo punto Proviamo a scrivere Un altro test Allora Domanda La classe di test Fa riferimento Solo alla classe Phonebook O potremmo Metterci test Anche di altre classi Allora In linea di principio Io dentro Posso mettere Qualunque cosa Di solito Ebbene Non andare A mettere Dentro La stessa classe Test Molto diversi Quindi Possiamo Possiamo organizzare I nostri test In maniera Diversa Allora Una possibilità È Per ogni classe Del nostro codice Andiamo a mettere Una classe Di test In modo che Tutti i metodi Della classe Di produzione Vengano testati All'interno La stessa classe Di test Possibilità 1 Possibilità 2 Vado a raccogliere Un insieme Di funzionalità E il test Di quelle funzionalità Lo vado a inserire All'interno Di una classe Dipende Dalle Dalle esigenze Se noi abbiamo Una classe Molto ampia O con funzionalità Molto estese Possiamo andare A suddividere I test In più Classi Se abbiamo Delle classi Abbastanza piccole È ragionevole Andare a Definire Un'unica classe Di test Però Di solito C'è un legame Ma Giusto per motivi Di organizzazione Non per Questioni Di Correttezza Dei test Io potrei Descrivere in unica classe Di test I test Di 10 15 100 Classi È ovvio che a questo punto La complessità Esploderebbe Quindi è semplicemente Un buon criterio Di organizzazione Dei nostri test Quindi andiamo a vedere Il nostro test Lo chiamiamo test 2 L'altro lo chiamiamo Test 1 In questo caso Dopo aver Creato l'oggetto Io vado a Fare un Rubrica Punto Add Nome Rossi E un numero Di telefono 333 444 555 666 Allora Domanda Se un metodo Di una classe Restituisce void Che assert Facciamo? Beh Se un metodo Di una classe Restituisce void Non possiamo andare A verificarlo In alcun modo Quindi Il metodo add Che restituisce void Non lo potremo Andare a Verificare Perché? Perché Non ci dà Nessun risultato Quello che possiamo fare È andare a vedere Quelli che sono Gli effetti Collaterali Di questo metodo E quindi Andare ad esempio A vedere String Primo Uguale Rubrica Punto First Quindi Non è detto Che i risultati Siano Direttamente Legati Alle operazioni Che noi stiamo facendo Ma Potrebbero Andare a produrre Degli effetti Collaterali Quindi andare a Modificare Il nostro Oggetto Quello che stiamo Testando O altri Oggetti correlati E a questo punto Sta a noi Andare a Utilizzare Altri metodi Per andare A osservare Quelli che sono Le modifiche Dello stato A questo punto Assert Equals Lo possiamo Anche andare A modificare Ad esempio Andando Invece A fare Una verifica Di tipo Diverso Potrei Semplicemente Andare a Fare Un Assert Not Null Di Primo Assert Not Null È un Altro Di Nostri Metodi Di Assertion Che Permette Di Andare A Verificare Che Quel Riferimento Non Sia Nullo Quindi Sostanzialmente Andiamo A recuperare Con il Metodo First Il Primo Elemento Inserito Che Sarà Ovviamente Quello Che Abbiamo Inserito Prima Presumibilmente E Dopodiché Andiamo A verificare Che Non Sia Nullo A Questo Punto Se Io Faccio Run Sostanzialmente Mi Riesegue L'ultima Esecuzione E Quindi Vedete Che Mi Rigenera Mi Fa Vedere Di Nuovo Il Risultato Di Eclipse Per Cui Abbiamo Due Su Due Metodi Eseguiti Zero Errori Zero Fallimenti Quindi Il Tutto Funziona Correttamente All'interno Di Un Metodo Di Test Io Posso Andare Ad Aggiungere Più Assert Se Voglio Andare A Verificare Più Cose Altrimenti Do Escrivere Una Pletora Di Metodi Di Test Sarebbe Molto Più Complicato Quindi Se Voglio Andare A Verificare Che L'inserimento Di Un Nuovo Contatto All'interno Della Nostra Rubrica Funzioni Correttamente Possiamo Sì Andare A Vedere Che Che Non Sia Nullo Dopodiché Possiamo Andare A Vedere Che Sia Assert Equals Il valore atteso Quindi Vado a Prendere Sostanzialmente Questi valori Allora Scusatemi Ok E poi Il valore Attuale Che Abbiamo detto È primo Quindi Aggiungo Delle Asserzioni All'interno Dei Mie Metodi Di Test A Questo Punto Rieseguo E Quindi Ottengo Di Nuovo Un Risultato Corretto A Questo Punto Immaginiamo Che Io Mi Attenda Un Due Punti Qua Se Vado Eseguire Il test A questo Punto Quello Che Ottengo È Un Errore Perché L'output Del Mio Programma Non Mi Ha Dato Una Stringa Formattata In Questo Modo Cosa Posso Fare Beh Innanzitutto Vado A Osservare Che Ho Eseguito Due Test E Ho Avuto Un Fallimento Il fallimento Vedete Il test 1 L'indicazione Verde Mi Dice Che Va Tutto Bene Invece Il test 2 Mi Dice Che C'è Stato Un Errore Quindi Il simbolo Di Fianco Mi Da Un Simbolo Di Errore Di Fianco Trovo Sostanzialmente Il Risultato Di Quello Che È Stato Il L' Asserzione Che È Fallita Allora Vedete Qui C'era Expected Lara Rossi Due punti Eccetera Eccetera But Was Lara Rossi Eccetera Allora Vi Copio Qua in Grande Il testo Così Lo riusciamo A leggere Un po' Meglio In realtà Qui Mi ha copiato Tutto Vi Tolgo Questo Quindi L'output Che ci ha Dato Il nostro JUnit È Stato Questo Vedete Lara Rossi Expected But Was Quindi Effettivamente Abbiamo ottenuto Questo risultato In più Vedete Che Il confronto Tra stringhe Ci dà Queste quadre Che ci indicano La differenza Tra le due stringhe E quindi Non dicono Semplicemente Aspettavo Questo Ma ho ottenuto Quest'altro Ma Evidenziano Ovviamente Se Le due stringhe Sono molto simili Questo ha senso Se le due stringhe Sono molto diverse È difficile Andare a Fare un confronto Comunque Se sono molto simili Vedete che ci evidenziano Che qui Mi aspettavo Un due punti Mentre invece Di qua Non c'era nulla A questo punto Che cosa succede Succede che Probabilmente Se il test È così È corretto Quello che posso Andare a fare È andare a prendere La mia classe Phonebook Vi ricordo Che quando Selezionate una classe E fate F3 Saltate alla sua definizione Ecco Nella classe Phonebook Quando vado a fare First Utilizzo il metodo ToString Della classe Contatto E quindi Qui Vado a mettere Un due punti A questo punto Se io Rieseguo I miei test Vedete che ho Di nuovo La barra verde Che mi dice Tutto ok Altrimenti Vado a vedere Nei risultati Dove è stato Verificato Il fallimento E cerco Di capire L'eventuale Errore Domanda In sede D'esame Potremmo far girare I test O sarà possibile Successivamente A casa Entrambe le cose Allora In sede D'esame Vi verrà dato Un test Molto molto semplice Di alto livello Che se volete È una trascrizione Di quelli che sono I requisiti Ovviamente Non c'è una trascrizione Completa Ci sono Gli aspetti Fondamentali Dei requisiti Per cui Non è un test Completo Però Vi dà Quanto meno Una misura Della qualità Di quello che avete scritto Ovvero Se quel test Non passa Sicuramente C'è un errore Significativo Se quel test Ha successo Vuol dire Che probabilmente Gli aspetti principali Sono a posto Resta Indeterminato Comunque Non è stato controllato Invece I dettagli Più fini Quindi Durante l'esame Avrete un test Diciamo Di alto livello Che potrete utilizzare A casa Invece Quello che Dovete fare È Prendere I test Di dettaglio Che vi verranno inviati E Cercare di Risolvere Eventuali problemi Finisco La mia panoramica Su come funzionano I test Dopodiché Vi racconto Adesso che sappiamo O meglio Che avete capito Almeno in linea di massima Come funzionano i test Come viene svolto L'esame O meglio Come l'esame Veniva svolto Negli anni passati Quest'anno È ancora un po' Un mistero Quindi cercheremo Di Adattarci E Di Risolvere I problemi L'idea È che L'esame Resti più o meno Come negli anni passati Con tutte le modifiche Del caso Che saranno necessarie Se non ci sarà possibile Svolgere gli esami In laboratorio Domanda Come ho ottenuto Il commento Sotto il test Allora Il commento Che ho messo Qui sotto Sostanzialmente Io l'ho copiato Dall'esito Del test Quindi Tolgo il due punti Così causo Di nuovo Un altro Errore Rieseguo Il test Vedete che qua Sulla destra Compare la descrizione Quindi Expected Eccetera E poi Qui sotto C'è tutta la serie Di chiamate Quindi se io faccio Una copia Control C Di qua Posso andare Incollare E quindi Trovo La prima riga Che è quella Che vediamo in alto E poi Tutto lo stack Di chiamata Vedete che c'è JUnit Runner JUnit Eccetera Eccetera Quindi A un certo punto C'è JUnit Test Phonebook Test 2 Che è Il metodo In cui è stato fatto Questo ovviamente È chiamato L'assert Equals All'interno Della classe Org JUnit Assert Adesso Cancello Questo Ve l'ho incollato Qui sotto Perché così Era un po' più grande Da leggere Però Normalmente Quello che possiamo fare E andare Qui A vedere Cosa è successo In particolare Se andiamo A fare il doppio clic Sullo stack Di chiamata Ci evidenzia La riga di codice In cui è stato rilevato Un errore A questo punto Qui Vado a rimettere I due punti Rieseguo I test E ottengo La barra verde Quindi Barra verde Tutto ok Barra rossa C'è qualcosa Che non funziona Altra osservazione Sui nostri test Vedete che La fase 1 Quella di setup Qui E qui Sono Tutto sommato Simili In realtà C'è una seconda fase Diciamo la 1.1 In cui eseguo Le operazioni Che è diversa Per cui Io Invece di ripetere Questa parte La posso andare A mettere In un metodo Public void Setup In cui Vado A inizializzare La rubrica Ovviamente Se io La inizializzo Così Questa rubrica Resta come Variabile locale Conviene Andare a mettere Un attributo Private Frontbook Rubrica Che Ovviamente Inizializzo Nel setup E poi Quello Lo vado A togliere Qua Quindi Fase 1 A Si eseguono Le operazioni Quindi Perché Questo setup Venga eseguito Prima di ogni test Devo andare A mettere Un'annotazione Che si chiama Before Before È un'annotazione Come tante altre Quindi Devo andare A mettere Un import Eclipse Mi suggerisce Fare un import Di before Da org.junit Quindi A questo punto Come funziona JUnit JUnit Prima di eseguire Ogni metodo Test Va a chiamare Il metodo Che è Segnato Con before Quindi Questo rubrica Uguale al new Phonebook Viene eseguito Prima di test 1 Prima di test 2 E prima di tutti I test Che compongono La nostra classe Di test Cosa vuol dire Vuol dire Che Questa inizializzazione Viene fatta Prima di Ogni Metodo Che ha senso Prima di iniziare Un singolo Metodo di test Voglio avere Una soluzione Una Scusate Una situazione Pulita Inizializzata Da zero In modo da Non avere I rimasugli O i residui Di quello Che è stato fatto In un altro test Altrimenti i test Possono andare A influenzarsi L'uno Con l'altro Questo Sostanzialmente Ci permette Di avere Una situazione Pulita E chiara All'inizio Di ogni test Attenzione Questo Significa che Se nella vostra classe Phonebook Voi utilizzate Un attributo Statico Pur andando A creare Un nuovo oggetto Phonebook Per ogni Nuovo test Il risultato È che Le variabili Statiche Modificate In un test Precedente Restano anche Nel test Successivo Ok Non è che La Virtual Machine Java Viene Riavviata Per ogni test Quello che succede È che Sostanzialmente Prima di ogni test Viene Creato Un nuovo oggetto Phonebook Questo è il motivo Per cui Bisogna sempre Stare molto Attenti A quelli che sono I side Effect Ovvero Gli effetti Collaterali Che noi Non riusciamo A vedere Qua Quindi In particolare Gli attributi Static Questo è il motivo Per cui Tendenzialmente Raccomando Di non Utilizzare Degli attributi Static Perché Perché In fase di test Sono Un incubo Perché Non sapete mai Bene Che cosa Viene fatto In un altro test Che influenza Degli attributi Static Quindi In generale La mia raccomandazione È Non utilizzate Attributi Static Se non sapete Esattamente Cosa fate E soprattutto Se volete andare A testare Una classe È probabile Che se Quella classe Contiene Gli attributi Static I test Non funzionino Bene Perché Quello che Avete fatto In un test Resta Poi a disposizione Anche Nel test Successivo Ecco Quella che Vediamo qua È Una struttura Tutto sommato Standard Per quello che È Una classe Di test Ovviamente Se noi abbiamo Un programma Ampio E complesso Possiamo avere Più classi Di test E quindi Possiamo andare A Mettere Tante Classi Di test Per cui Se io Salvo Questo E vado A Rieseguire I miei test Ottengo Che tutto Funziona Ovviamente Dati Requisiti Io potrò andare Ad aggiungere Tanti altri Metodi Di test In particolare Se andiamo A vedere Qua La soluzione Del Laboratorio Sull'università Abbiamo Una Package Che si chiama E tipo Litopio Test Che sta Dentro La cartella La test E qui C'è una classe Test University Con Vedete Un before Che inizializza L'università E poi Una serie di metodi Dichiarati Come test Test name Rector Test enroll Test student Test course Activation Eccetera Eccetera Ok Ok A questo punto Voi Voi Avete un'idea Sono privati Sono privati Sono privati Nel senso che Non li potete Vedere a vicenda Tra di voi Ma non sono Assolutamente Riservati Nel senso che Io ovviamente Posso accedere A tutti questi Repository Per cui Cosa succede? Verrà eseguito Questo test In automatico Su tutti i vostri Repository E il risultato Vi verrà inviato Via email Quindi Oggi pomeriggio Riceverete un'email Con l'esito Dei test I test Ovviamente In questo caso Sono Un'unica classe Ma più in generale Potrebbero essere Tante classi Per cui I test Vi verranno Anche Resi disponibili Sotto forma Di un file JAR Un file JAR È un file Che Compatta Una serie Di classi Compilate Quindi Dei file Punto class Che contengono Il bytecode Del codice Di partenza E quindi Potrete andare A prendere Il vostro File JAR E eseguire I test Di quel File Il file JAR Lo vediamo qua È generato Nel progetto Dovrete andare A importarlo All'interno All'interno Quello Che è il vostro Progetto Quindi Troverete All'interno Dell'email Un link Al file JAR E quindi Potrete scaricare Una volta Che voi Avete scaricato Il file JAR Diciamo che Lo potete Copiare O trascinare Dentro Il vostro progetto Quindi Questo è il progetto Di partenza Vado a mettere Dentro Il file Punto JAR Ovviamente Se resta così Io non riesco A eseguirlo Quello che è necessario Fare È fare Un click Destro Su il nostro Test Sul nostro JAR Di test Fare Build Path E fare Add To Build Path Questo cosa fa? Sostanzialmente Rende le classi Del file JAR Disponibili All'interno Del progetto Se non faccio questo Quello è semplicemente Un file che io ho messo Dentro il progetto Potrebbe essere un'immagine Potrebbe essere un pdf Potrebbe essere qualunque cosa Ma sostanzialmente Non è quello Non è un qualcosa Che viene visto Dai clips Quindi facendo Add to Build Path Eclips inizia a vedere I suoi contenuti Infatti qui Vedete che troviamo Nelle reference libraries Il nostro Test JUnit JAR Che possiamo andare Ad aprire E Più in generale Su cui possiamo andare A fare Un RANES JUnit Test Quindi Facendo RANES JUnit Test Su Quel file JAR Che io ho aggiunto Alle librerie Quello che ottengo È l'esecuzione Di tutti i test Per cui Vedete che In questo caso Essendo stati eseguiti Sul progetto di partenza Su 10 test Ho Una serie di fallimenti Prima non abbiamo Osservato più di tanto Quello che è Il risultato Di un test Qui notate che Su 10 test Ho 4 errori E 6 fallimenti E 6 fallimenti E' chiaro Che cos'è un fallimento Se noi andiamo a prendere Ad esempio Test name Rector Dice Mi aspettavo Politecnico di Torino Invece era null Quindi sostanzialmente Qui ho un assert equals Mi aspetto un nome Mi aspetto un certo valore E ne ottengo un altro Quindi un fallimento È dovuto A un assert Che cerca di verificare Una condizione Che non è vera Posso avere anche però Quelli che sono Dei errori Quindi di solito Vediamo in blu I fallimenti E in rosso Gli errori Gli errori Sono Lo vediamo qua sotto Degli eccezioni Che sono state generate Durante l'esecuzione Del programma Quindi null pointer exception È Se volete Quella più comune Per cui Se vado a vedere qua Ho Un plan Che mi è stato Restituito Dal Metodo study plan Cerco di chiamare Il metodo trim Che è sostanzialmente Quello che mi Cancella Le Gli spazi bianchi In testa E in coda A una stringa Ecco Purtroppo c'è stato Un null pointer exception Perché quello È di fatto Un null Quindi Normalmente Ho dei fallimenti Se A fronte di un Verifica Fatta con un Metodo assert Mi ritrovo Che La condizione Che sto cercando Di verificare Non è Vera Ho invece Un errore Quando Durante L'esecuzione Del mio Test Viene generata Un'eccezione Null pointer exception È probabilmente L'esempio più comune Ma potrei anche avere Ad esempio Un class cast exception O Uno degli altri Delle altre eccezioni Che abbiamo visto Durante Le lezioni precedenti Quindi Quello che riceverete Oggi pomeriggio Sarà un'email Con L'esito Di questi test Che potrete Andare a Poi Rieseguire Utilizzando Il file jar Come vi ho fatto vedere Quindi bisogna Copiarlo dentro Il vostro progetto Quindi lo scaricate Dal link Che vi viene Fornito nel progetto Lo copiate Dentro la cartella Del progetto E poi fate Un build path E in questo caso Non c'è più Perché l'abbiamo già aggiunto Add to build path Una volta che avete La vostra applicazione In realtà Potete andare a vedere Che c'è una classe All test Che è Una suite di test Che include Tutti i test Quindi in realtà Voi potete Semplicemente andare Su questa E fare Run as JUnit Test Per eseguire Tutti i test Torno un attimo Qua sul primo Dei test Che vedete L'assert Equals Come scritto qui Rispetto a quello Che abbiamo utilizzato Nell'esempio Precedente Sul phonebook Vedete che ha tre parametri E non soltanto Due Il primo parametro È il messaggio Che viene Stampato In caso di fallimento Infatti Se vedete Qui Ho un Wrong university name E poi c'è Expected E But was Esattamente come prima Quindi c'è Un messaggio precedente E poi c'è La spiegazione Del fatto Perché I due valori Sono diversi Allora Domanda Guardando la cartella BIN Ci sono delle Classi che non sono mie Attenzione La cartella BIN Tendenzialmente Non Consideratela Allora Io torno un attimo Qua sul progetto Vedete che Qui Non si vede Nessuna cartella BIN Perché la cartella BIN È nascosta Ed è la cartella In cui In cui vengono generati I file Quando viene fatta La compilazione Quindi Se voi Utilizzate La visione Di navigator Vedete che C'è la cartella BIN Dentro la cartella BIN Ci sono ExampleApp.class University.class Eccetera Quindi ci sono Tutte le classi Vostre A questo punto Per chiudere il discorso Sui test Riceverete i vostri test Li potrete andare a inserire Nel vostro progetto Potete aggiungerli al path E potete andare ad eseguire I test A questo punto Sostanzialmente Doveste avere Lo stesso risultato Che viene stampato Che viene riportato Nell'email Che avete ricevuto Quindi Andando a vedere i test Andando a vedere Dove c'è un fallimento Potrete Correggere il vostro compito In modo che Superi tutti i test I test Non verranno Rieseguiti In automatico Perché a questo punto Ce li avete a disposizione E potete tranquillamente Eseguirli voi Per conto vostro Domanda Non ho ben capito Come e quando Si utilizza Throws Non l'hai capito Perché io non l'ho mai detto E non l'ho mai spiegato Finora Throws È legato Alle eccezioni Che saranno Un argomento Che faremo A breve Così a questo punto Capirete di cosa si tratta Le eccezioni Allora Noi le abbiamo viste Così Come utenti finali Null pointer exception Class cast exception Sono i due esempi Che abbiamo visto Che abbiamo visto più frequentemente Le eccezioni in generale Sono il meccanismo Che viene utilizzato in java Per andare a gestire Le condizioni anomale O la presenza di errori Quindi Una delle prossime lezioni Probabilmente La prossima Devo ancora Decidere un attimo L'ordine Dei prossimi due argomenti Sarà sulle eccezioni Quindi a questo punto Capirete cosa Cosa sono E come vengono utilizzate Per il momento Ho evitato Di parlarne Perché il discorso È un po' più complicato Di quello che È possibile svolgere In pochi minuti A questo punto Vi segnalo anche che Come vi ho scritto Anche su Slack Ho inserito Nei vostri repository Dei nuovi Dei nuovi file In particolare Li possiamo vedere qui Io l'ho messo In un progetto separato Ma voi li ritroverete In un progetto Vostro Example App Ext E University Ext Che sono due Nuove classi University Ext Lo vedete qua Estende University E quindi è Una classe In più Che potrete andare A implementare E poi trovate Ovviamente anche I requisiti In particolare In particolare Una estensione Di requisiti Per poter visualizzare Questi requisiti Dovete andare Visto che sono sul repository Non sono sul vostro progetto locale Dovete andare sul vostro Progetto E fare E fare E update In questo modo Verranno caricati Le modifiche presenti Su repository Anche in locale Sul vostro pc A questo punto Potete aprire requisiti Vi ritroverete Le due classi Gli esempi estesi In più La classe Di estensione Che potete svolgere Così avete Qualche esercizio In più Da svolgere Nell'attesa Del prossimo Laboratorio Che sarà Venerdì Non di questa settimana Ma di quella successiva Quindi dopo Pasqua Allora domanda Sul messaggio di errore Un attimo Che riapro Il messaggio Che trovate qua Rondi University Name Viene Stampato Soltanto Se L'assert Fallisce Quindi Quel messaggio Lì viene stampato È un messaggio Di spiegazione Che viene dato Quando L'asserzione Fallisce Domanda Che senso Ha un logger Se stampa su console Beh Il comportamento Standard del logger È di stampare su console Ma può essere Configurato Per andare a stampare Su un file Ok Nella sua Creazione Nella sua versione Base Stampa Su console Normalmente Posso andare a configurarlo In modo che stampi Su un file Non abbiamo ancora Parlato di file Quindi Lasciamo perdere Questo tipo Di configurazione Ma sappiate Che i log Possono essere Configurati In maniera Molto ampia Inoltre Quello che succede È che molto spesso Se voi immaginate Di andare a scrivere Un programma server La console Non è qualcosa Che voi Utenti Vedete La console Viene Rediretta Su un file Temporaneo In cui Potete andare A scrivere Quello che volete Quindi la console È utilizzata Non come Meccanismo di interazione Con l'utente Ma bensì Come un qualcosa In cui andare A scrivere Messaggi di stato E quindi In questo caso Il logger Che scrive Sulla console Funziona benissimo Ma se invece Volete andare A utilizzare Un'applicazione Locale Potete configurare Il logger In modo che Scriva su un file Ok Non sono entrato Nei dettagli Vi ho semplicemente Messo un logger Molto molto semplice Nella versione Estesa di requisiti Perché quello Non è l'obiettivo Poi quando parleremo Di input output Magari tornaiamo Su questi argomenti Ho provato a fare L'update Non carica I nuovi requisiti Bisogna verificare Un attimo Che il progetto Sia quello corretto I requisiti Dovrebbero esserci Su tutti Oppure Ho già fatto Un update Allora Domanda Se il fallimento È legato A una mancata Corrispondenza Tra il valore aspettato E il valore ottenuto Perché negli esemi Intipi fatti Prima Modificando la stringa Il testo Signava il rosso Come errore Beh perché Sostanzialmente Torno un attimo qua Allora Io mi aspetto Questa stringa Se metto Se tolgo Il Due punti Sto Sostanzialmente Dichiarando Che mi aspetto La stringa Senza i due punti È ovvio Che La corrispondenza Tra Questo E quanto scritto Nei requisiti È un qualcosa Che devo garantire Io come programmatore È ovvio Che io potrei Avere scritto Anche il testo Sbagliato Quindi Se nei miei requisiti C'è scritto Che I valori Devono essere riportati Separati da spazi Ecco Allora Il test dovrebbe essere scritto Così Per cui Se eseguo Il mio Scusate Il test Qui Ottengo Un fallimento E mi dice Mi aspettavo Lara Rossi Invece ho trovato Lara Rossi Con i due punti A questo punto Vuol dire Perché dentro Il mio contatto Non devo andare A mettere I due punti Quindi Sostanzialmente Un conto è quello Che scrivo nel test Un conto sono i requisiti Io ovviamente Devo cercare Di essere Il più corretto Possibile Nel tradurre I requisiti Nei test Ovviamente Posso commettere Degli errori Anche Nello scrivere I test Altra domanda I metodi di test Ci torniamo qua Punct sono anche Essere non void No I metodi di test Devono essere Public Void Senza parametri E devono avere Questa notazione qui Questo è Il vincolo Per tutti i metodi di test Domanda È possibile Far lavorare Java e SQL Assieme Sì La risposta Breve è sì La risposta Lunga È un po' Più complessa Quindi Magari Se mi fai la domanda Su Slack Ti do qualche puntatore In più Allora Se nel fare Commit Appare un errore Some of the selected resources Are conflicting Vuol dire che sostanzialmente È stato fatto un commit Sul repository Più recente E che va a modificare Gli stessi file Che tu hai Sul tuo pc Quindi Questo può essere causato Allora Immaginando che non sia causato Dai file che vi ho generato Perché immagino che Nessuno avesse utilizzato Quei nomi di file È possibile Che tu abbia Due progetti Che All'interno del tuo Del tuo pc Che sono stati Ottenuti Da repository Ne hai modificato uno Hai fatto il commit Hai modificato l'altro Hai cercato di fare il commit A questo punto C'è un conflitto Perché Rispetto all'ultima versione Che c'era sul repository Ce n'è stata una Precedente Oppure Hai fatto Operazioni di commit Su due pc diversi Oppure Ultima spiegazione Quella che è probabilmente Più improbabile Avevi scritto Una classe Che è Una di quelle Che io vi ho messo Sul repository Per cui La versione Che io vi ho messo Sul repository Va in conflitto Con quella che avevi In locale Magari Ci sentiamo Nello specifico Su Slack Per risolvere Il problema Però Questi sono I possibili motivi Che Causano Un conflitto Per questo motivo La mia raccomandazione È Quando programmate E Andate a scrivere Poi su un repository La prima operazione Da fare Comunque Per essere tranquilli E fare un update In modo che Prima di iniziare A scrivere Qualunque cosa Voi abbiate In locale Sul vostro pc L'ultima versione Presente sul repository Questo è una Regola generale Quindi Prima si fa l'update E poi si inizia a lavorare Finito di lavorare Si fa il commit In modo che Sicuramente Prima di iniziare a lavorare Voi abbiate In locale E facciate le modifiche Sull'ultima versione Disponibile Ok Se non ci sono altre domande Sui test Allora Domanda Durante la lezione Ho parlato di helper method Che Sostanzialmente Possono Non sono dei test Dei metodi di test Ma vengono utilizzati Ecco Ci sono un paio di esempi Nei test sull'università Ve li faccio vedere Sono qua in fondo Allargo Ecco Questi che io qui ho chiamato Utility method Ma possiamo anche chiamarli Helper method Sono dei metodi Che permettono di fare Qualche verifica in più Ad esempio Qui Io ho definito Un metodo AssertContained Che va a verificare Che Una Sottostringa Sia contenuta Dentro Una stringa Quindi Allora Qui mi dice Se il messaggio è nullo Lo faccio vedere Quindi questa prima parte Va a costruire il messaggio Vado a utilizzare Un AssertTrue E qui Semplicemente Vado a verificare Se la stringa Attuale Quindi l'ultimo parametro È nullo Allora Resetisco false Perché sicuramente Null Non conterrà nulla Altrimenti Vado a verificare Che ActualString Punto Contains La stringa Attesa E uso L'assertTrue Che è un metodo Già presente Per fare questa verifica E genero ovviamente Un certo messaggio Nel caso in cui Questo Non sia verificato Vedete che questo metodo È privato È tra l'altro Un metodo statico Ma questo non è Strettamente necessario Per i metodi di Helper E mi permette Di andare a scrivere Un AssertContained Che poi ho utilizzato Più su Nei metodi di test Evitando di dover ripetere Tutto questo blocco di codice Ogni volta Ma andando semplicemente A scrivere AssertContained Con i valori Che voglio andare a verificare I metodi di Helper Servono sostanzialmente Per andare a scrivere Dei metodi di test Più snelli E più semplici Che siano più facili da leggere E che vi permettono Di concentrarvi Su quella che è la funzionalità Che volete andare a verificare Invece di andare a Scrivere dei metodi Molto sbordolati Molto lunghi Che poi sono difficili da capire Perché poi Dovete pensare Che quando i metodi di test È possibile Anzi È probabile Che quei metodi Portino a un errore Un fallimento Per cui qualcuno Dovrà poi andare a leggere Il metodo di test E capire cosa è successo Quindi più semplice E intuitivo Il metodo di test Meglio è In fase di 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 errore O di fallimento I test I test Verranno eseguiti Sull'ultima versione Di cui fate il commit Sì Verranno eseguiti I test Sull'ultima versione Che avrete Di cui avete fatto Il commit Entro questa mattina Domanda I metodi di test Possono essere utilizzati Anche fuori Dai test Allora Il di principio Sì In pratica Non ha molto senso Ci sono Dei metodi Di assertion Predefiniti In java Che però Non sono esattamente Questi Questi metodi Di assert Lo vediamo Quassù In cima Sono disponibili Perché noi facciamo Un assert Di Org JUnit Assert E quindi Sono una serie Di metodi statici Definiti nella classe Org JUnit Assert Sono pensati Per funzionare In collaborazione Con Il frame Org JUnit Per cui Sebbene voi Li possiate utilizzare Almeno Non potete Sintattico È possibile Al di fuori Dei test Non ha molto senso Perché Vi lanciano Dei messaggi Che vengono Poi interpretati Correttamente Da JUnit Al di fuori Non ha molto senso C'è un'altra domanda Su un conflitto In fase di commit Torniamo magari Su questi problemi Su Slack E cerchiamo Di risolverli lì Perché sono un po' Più generali E magari sono specifici Di quello che avete fatto voi Vale quello che dicevo Prima Su quelle che sono Le possibili cause Di conflitto A questo punto Se non ci sono altre domande Su Sui test Provo a raccontarvi Velocemente Come Viene Svolto L'esame Allora Quello che dovrete fare Durante l'esame È molto simile A quello che avete fatto Durante I laboratori Andate sul vostro Repository L'unica differenza È che nell'esame Il repository Non è questo Che stiamo utilizzando In questo momento Ma vi verrà dato Un repository Personale Specifico Per l'esame Però vi verrà dato L'URL Vi verrà dato Un numero utente Vi verrà dato Una password Quindi potrete Tranquillamente utilizzare Quelli per accedere Esattamente come Quelli che avete utilizzato Ora A questo punto Una volta che vi collegate A repository Fate un'operazione Di Import Del progetto Attenzione a fare Un import corretto Perché dovrete andare A importare Il progetto Una volta che avete Fatto l'import Avrete I requisiti E quindi potrete Lavorare Esattamente come avete Fatto per Il caso Del Dell'ultimo laboratorio Quello Sull'università Una volta che Avrete Fatto i vostri requisiti Potrete fare Un commit La mia raccomandazione È Tutti i requisiti Sono Fatti Per punti Alla fine Di ogni requisito Fate Un commit Quindi Scrivete il codice Eseguite magari I test Verificate che Almeno la porzione Di test È relativa A quel requisito Non vi dia Errori O fallimenti Dopodiché Fate un commit In modo che Il vostro codice Almeno fino a quel punto Sia Stato trasferito Sul repository A questo punto Procedete Entro la scadenza La fine dell'esame Voi dovrete avere fatto Un ultimo commit Attenzione che la scadenza È vincolante Per cui se Vi dico che Dovete fare un commit Entro le 11.30 Di oggi Ecco Se voi lo fate alle 11.31 Quello che avete fatto Nell'ultimo commit Non viene contato Quindi Il fatto di fare Periodicamente Dei commit Prima Vi garantisce Che comunque Man mano Voi stiate aggiungendo Nuovi elementi Dentro Il vostro Repository E quindi Se per caso Non riuscite a fare L'ultimo commit Entro la scadenza Comunque Tutto quello che avete fatto Prima È presente Sul repository Inoltre Se avviene un crash Sul vostro computer Quello che avete messo Sul repository Ragionevolmente Resta disponibile Quindi Non lo perdete A questo punto Dopo Aver terminato l'esame Quello che verrà fatto Sarà andare a prendere Tutto ciò Che c'è presente Sui vostri repository Dal momento Cioè All'istante In cui scadeva Il termine di consegna Quindi Viene fatto Un'operazione Di Checkout Di import Del progetto Al distante In cui scade Il termine Vengono eseguiti I test E Il risultato Dei test Vi viene mandato Vi verrà mandato Un mail Esattamente identico A quello che riceverete Oggi pomeriggio Con L'esito Dell'esecuzione Dei test E un link A un file jar Con i test A questo punto Voi a casa Avrete Un certo numero Di giorni Disponibili Normalmente Tre o quattro giorni Lavorativi Dipende Un po' Dalle date Degli esami Da quanto sono vicino O lontane A questo punto Eseguite i test Correggete eventuali errori Io vi auguro Di non avere errori Ma Di solito Statisticamente Qualche errore Può succedere Quindi Quello che dovrete fare Sarà andare a sistemare Quello che non funziona In modo che I test Passino tutti Completamente Una volta che Voi avete sistemato Il vostro programma Quello che potete fare È fare un commit Di nuovo Ci sarà una seconda scadenza Però Avrete Due o tre giorni Di tempo Come minimo Dal momento in cui Sono resi disponibili I test dettagliati Che vi vengono inviati Via mail Dopo quella scadenza Noi cosa facciamo Andiamo a Verificare che L'ultima versione Che avete messo Sul repository Superi tutti i test Se supera tutti i test Allora noi Andremo a valutare Il vostro esame E vi daremo Poi un voto Se l'ultima versione Presente sul repository Non supera tutti i test Noi assumiamo Che voi abbiate deciso Perché il vostro programma Non era Fatto abbastanza bene Di Sostanzialmente Rinunciare Alla valutazione A questo punto Cosa succede Noi andiamo a prendere Due parametri Di valutazione Il primo parametro Di valutazione È La percentuale Di test Che erano superati Dal programma Che avete consegnato Durante l'esame Entro la prima scadenza Il secondo parametro È Quante modifiche Avete dovuto fare Per Far funzionare Far superare Tutti i test Dal vostro programma Questi due parametri Vengono utilizzati Uno in positivo Quindi la percentuale Di test superati Viene utilizzata in positivo Mentre invece Viene utilizzato L'inverso Del numero di modifiche Per andare a Darvi Un voto finale Quindi ci sono due componenti La prima componente È la percentuale Di test superati La seconda componente È l'inverso Delle modifiche Che avete dovuto fare La somma di questi due Vi dà Il voto finale Oltre a questa parte Di valutazione Della programmazione Della parte Di java Ci sono alcune domande A cui dovete rispondere E su queste Ovviamente Verrà valutato Quante risposte Corrette Avete dato Questo è il funzionamento Complessivo Dell'esame Almeno Per come è pensato ora Ovviamente Potrebbero esserci Delle variazioni Nell'ottica Di Dover fare Gli esami A distanza E non Nei laboratori Però In questo momento È difficile Andare a prevedere Cosa succederà A giugno O luglio Quindi Appena avremo Qualche informazione Più di dettaglio E potremo fare Delle valutazioni Ovviamente Parleremo Di eventuali modifiche Delle modalità D'esame Domanda Ci sono Test disponibili Ci saranno Dei test Minimali Disponibili Durante l'esame I test Di dettaglio Come quelli Che Verranno inviati Oggi pomeriggio Vi verranno dati dopo A questo punto Io Vedo dal mio lato Qualche problema Di Connessione Quindi probabilmente Anche la mia Connessione Non è Ideale Diciamo che Con questo Ho concluso Quello che volevo Raccontarvi Per oggi Quindi come funzionano I test In JUnit E come possiamo Utilizzarli All'interno Di Eclipse E darvi Un'idea Di come Potrà funzionare L'esame Di nuovo È un'idea Approssimativa Perché non sapremo Se potremo Svolgerli Esattamente Come era Pensato In passato Oppure Se dovremo fare Qualche piccolo Aggiustamento Per eventuali Esami A distanza A questo punto Se ci sono Altre domande Dubbi O problemi Ho visto Nella chat Che c'erano Alcuni problemi Segnalati Relativamente Al commit O a dei conflitti Direi Ci spostiamo Poi Su Slack E eventualmente Interagiamo Di là Domanda Se ci saranno Due metodi Modificati Ci saranno Due punti In meno No La variazione Non è fatta In maniera così A livello Di metodi Ma è fatta In maniera Un po' più fine In termini Di quanto Codice Andate a modificare Però Direi Ci torniamo Più avanti Vedendo anche Dei laboratori Un po' più complicati Per capire Come funziona Il formato Delle domande Teoriche Sostanzialmente È analogo Alle domande Che avete Cioè Simile a quello Che avete fatto Relativamente All'autovalutazione Sugli argomenti Di C E di Java base Gli argomenti Sono La sintassi Java In generale E poi Gli argomenti Un po' più specifici Che abbiamo visto Quindi Potrebbero essere I pattern Potrebbero essere Potrebbe essere UML Di cui abbiamo parlato E su cui Dobbiamo ancora poi Finire il discorso Oppure Gli argomenti più teorici Che tratteremo In lezioni future La parte più teorica Diciamo Di software engineering Non l'ho Sviluppata In Questa In questa parte Iniziale del corso Perché volevo dare La priorità A Java Che è comunque L'argomento Più complicato Quindi Poi Verso la fine del corso Ci saranno delle lezioni Un po' più teoriche E su questa parte teorica Ci potranno essere Delle domande Domanda La password Di server Può essere cambiata? No La password Di server È quella che viene inviata Via mail E non c'è un meccanismo Per cambiarla Nel caso in cui Abbiate dimenticato La password O l'avete perso L'email Me lo potete dire Io vi rinvio L'email Direi che a questo punto Chiuderei la lezione di oggi Vi faccio gli auguri Di una buona Pasqua Serena per quanto può essere Nelle condizioni in cui ci troviamo Nei prossimi giorni Vi pubblicherò Delle nuove lezioni Non sono lezioni Necessarie Per Il prossimo laboratorio Quindi quello che sarà Tra Non il venerdì che viene Ma quello successivo Per cui potete guardarle Con calma E ovviamente Se poi ci sono domande O altri problemi Comunque c'è sempre Slack a disposizione Per Eventuali domande E chiarimenti A questo punto Chiudo La lezione Vi auguro buona Pasqua E noi ci Rivediamo Ci sentiamo Dopo la pausa di Pasqua Arrivederci E Ancora auguri Ciao a tutti Ciao a tutti